Michelle, ti voglio concentrata, eh? Sì, sì, sì. Almeno cerca di prenderla, non chiediamo tanto. Vabbè, ma Fabio, rilassati, no? Bambina, rilassati e ascolta il suono del vento. Quando arriva la palla, colpisci. Ok. Il vento ce lo fa lei quando gira la mazza. Vabbè, pronti, eh? Ci sono, eh? Vai, palla! Michelle... Michelle, ma l'hai tirata fuori dal campo? Sì, scusa, lo so. È un fuoricampo, quello! Ma lo so, scusate! Ma scusate, ma che cosa è un fuoricampo? Noi ci alleniamo da 40 anni, non l'abbiamo mai fatto. E che fuoricampo? Dai, smettila di prendermi in giro, su. Non è cosa. Michelle, hai fatto un fuoricampo. Lo dici perché mi vuoi bene? Dai, basta, amore. Ma no, Michelle, l'hai buttata fuori dal campo. Amore, basta prendermi in giro ogni volta. Ma non ti so prendermi in giro, Michelle. È la prima volta che vengo a giocare. Adesso perché tiro fuori una pallina alla volta. Ma sei stata brava? Sei stata brava, Michelle! Ti ho detto che sei stata brava! Hai fatto un fuoricampo? Fuoricampo? Non ho fatto. Due non ho fatto un fuori dal campo. Io ti ho detto un fuori dal campo. Grazie a tutti.